Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlo di come trovare la motivazione. Prima di raccontarvi nel concreto come trovare la motivazione, voglio capire insieme a voi perché delle volte ci sentiamo demotivati. La prima ragione è che la paura è legata profondamente alla motivazione. A volte non partiamo neanche col fare una cosa perché in realtà abbiamo paura dell'esito che potrebbe avere. Ad esempio potrei pensare di non girare un determinato video perché ho paura che non venga visualizzato o che venga eccessivamente criticato. Quindi riflettete se la vostra mancanza di motivazione abbia nel background una paura nascosta. La seconda motivazione è che non siamo connessi. Per esempio quando io non medito o salto troppi giorni del mio journaling mattutino posso risultare un po' sconnessa da me stessa. E che cosa porta questo? Porta a perdere di vista i miei obiettivi. Se perdiamo di vista i nostri obiettivi non riusciamo ad essere motivati. Ad esempio se ho un obiettivo finanziario ovvero mettere da parte un po' di denaro per riuscire a comprarmi una nuova macchina e lo perdo di vista non sarò motivato nel risparmiare. Oppure se decido di allenarmi perché il mio obiettivo è quello di essere la versione migliore di me stessa e quindi essere in forma fisicamente e stare in salute. Beh se perdo di vista questo obiettivo niente mi aiuterà ad alzarmi dal divano a stendere il tappetino ed iniziare a fare fatica e ad allenarmi. E con questo mi collego al terzo motivo che ci potrebbe far sentire demotivati ovvero rimanere per troppo tempo nella nostra comfort zone quindi non uscire non darci stimoli ma rimanere nella tranquillità e facilità. Perché questo ci porta alla lunga a sentirci demotivati? Perché non abbiamo nuovi stimoli mentre se facciamo fatica che significa fare breccia creiamo dei nuovi stimoli ci sentiremo appagati e quindi ritroveremo ancor più motivazione. Un altro motivo potrebbe essere che quello per cui stiamo cercando la motivazione non è la cosa giusta per noi. Quindi magari stiamo cercando la motivazione di alzarci dal letto e andare a lavorare tutte le mattine ma magari quel lavoro non è il lavoro giusto per noi ed ecco perché non siamo motivati nell'alzarci e andare a lavorare tutti i giorni. Ora che abbiamo capito il perché spesso ci sentiamo demotivati cosa possiamo fare in concreto per essere motivati? Innanzitutto eliminare la negatività, la negatività che ci auto infliggiamo. Vi faccio un esempio. Voglio diventare un medico, voglio fare il test di medicina ma nella mia testa continuo a ripetermi che non sono abbastanza, che non ce la farò mai, che non ho abbastanza memoria, che non sono abbastanza capace, eccetera eccetera. No, dobbiamo essere noi i primi sostenitori e automotivatori di noi stessi. Quindi eliminiamo tutto questo self talk negativo e andiamo a motivarci psicologicamente e mentalmente. Quindi devo dire, voglio diventare un medico, è la massima aspirazione della mia vita e riuscirò a diventarlo. Passerò il test di medicina perché ho studiato tanto, perché sono rimasto concentrato, perché ne ho le capacità, perché sono una persona forte, eccetera eccetera eccetera. La seconda cosa che possiamo fare per motivarci è condividere il nostro obiettivo con un'altra persona. Ad esempio, devo passare un test di giurisprudenza, un esame di giurisprudenza difficilissimo, veramente impegnativo. Cosa faccio? Condivido questo obiettivo con una mia compagna o un mio compagno di corso. Questo mi permetterà di dedicare il tempo corretto allo studio, perché magari ci troviamo e studiamo insieme. Quindi anche se vorrei fare altro in quelle due o tre ore in cui studio, so che ho un appuntamento e quindi mi presenterò e studierò con il mio compagno. Questo mi permette anche di evitare distrazioni, quindi magari decidiamo di andare in biblioteca a studiare in cui ci deve essere silenzio e ci diamo un tot di pagine che dobbiamo raggiungere. Non posso permettermi di deludere il mio compagno di studi e questo mi permetterà di spalleggiarmi e quindi di raggiungere l'obiettivo con più facilità. Obiettivi realistici. Questo è importante da sottolineare. Dobbiamo scegliere degli obiettivi innanzitutto che sono realistici e che sono giusti per noi e non per altre persone. Non dobbiamo confrontarci sempre con gli altri e con obiettivi che magari si sono posti gli altri. Dobbiamo capire quali sono i nostri obiettivi, che siano calibrati su di noi e soprattutto che siano realistici. Non posso pensare di scalare il monte Everest domani se non mi sono allenato per mesi e mesi prima. Habit tracker può essere una buonissima soluzione per riuscire a trovare la motivazione e mantenerla. Quindi fissare delle abitudini e tenere segnato quali giorni abbiamo raggiunto quell'abitudine. Quindi cerchiamo di capire dallo schema, dal grafico alla fine del mese se abbiamo effettivamente raggiunto e mantenuto quell'abitudine e se lo abbiamo fatto ne trarremo motivazione. Se non lo abbiamo fatto saremo ancor più determinati a raggiungere l'obiettivo nel mese successivo. Fissare un piano, un programma delle cose che dobbiamo fare. Lo possiamo fare sulla nostra agenda, lo possiamo fare su un foglio, lo possiamo fare digitalmente ad esempio con l'app di Notion. Attraverso la scrittura di ciò che dobbiamo fare ci automotiveremo e soprattutto ci focalizzeremo su tre attività a cui vogliamo dare la priorità e cercheremo di farle subito. Cercheremo di farle alla mattina quando siamo più energici, cercheremo di concentrarci su quelle soltanto che soprattutto sono le attività che di solito mettiamo un po' da parte perché sono quelle più difficili. No, cerchiamo di farle subito e di portarle a termine, avendo nella nostra testa queste tre come priorità. Responsabilizzarsi. Non dare la colpa agli altri se non siamo motivati e se siamo pigri, ma prenderci le nostre responsabilità. Get your stuff together and go on with your life. Prendere ispirazione e conoscere quello che vogliamo raggiungere. Ad esempio, vogliamo avere un fisico sano, tonico e quindi che cosa facciamo? Dobbiamo cercare dei video e dei coach che siano ispirazionali. Possiamo inserire questo obiettivo nel nostro vision board che se non sapete che cos'è ve lo racconto in un video totalmente dedicato a quello che vi lascio in descrizione. E oltre a essere ispirati dobbiamo conoscere. Ad esempio, conoscere quali sono gli alimenti che ci fanno meglio, conoscere qual è la dieta più giusta per noi o quali sono gli esercizi che vanno ad aiutarci a rendere efficace il nostro workout per l'obiettivo che abbiamo. Celebrare le piccole vittorie è fondamentale e molto importante. Ad esempio, sono riuscito a concludere quel progetto che avevo o sono riuscito a svolgere una delle task prioritarie della giornata, mi premio. Posso ad esempio andare a fare una piccola passeggiata, comprarmi un bouquet di fiori piuttosto che magari mangiarmi una fetta di torta. Insomma, ognuno celebra le piccole vittorie come vuole. Non procrastinare. Questo è il nemico numero uno della motivazione. Non dobbiamo dire lo faccio dopo, non dobbiamo mettere le cose da parte, nasconderle sotto il tappeto e pensare che qualcuno le farà per noi, ma dobbiamo farle e farle subito. Dividere in step le cose più grandi e difficili che dobbiamo fare. Cercare di fare una cosa, farla subito, riuscire a farla nella sua completezza, a volte diventa difficile se quello che dobbiamo fare è particolarmente impegnativo. Quindi cerchiamo di dividere questa grande task in piccole task e celebrare la vittoria del raggiungimento di ogni singola piccola task. E tu cosa fai per trovare la motivazione? Scrivilo nei commenti, noi ci vediamo nel prossimo video.